La cosca pizzata, attiva nella Locride, avrebbe gestito diversi affari a Roma, a partire dal traffico della droga. E questo quanto è emerso nel corso dell'operazione di polizia e guardia di finanza, che hanno eseguito ieri una trentina di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di presunti appartenenti ad un'organizzazione criminale attiva nella capitale e collegata proprio ad alcune cosche dell'Andrangheta. Dalle indagini sarebbe emerso inoltre come il gruppo, capitanato da Giovanni Pizzata e Massimiliano Sestito, avrebbe gestito un largo giro di droga e armi. Nello specifico le armi arrivavano dalla Svizzera, dove venivano acquistate a prezzi concorrenziali. Una volta portate in Italia, le strade erano due, o venivano rivendute per fare cassa, oppure venivano utilizzate per azioni di fuoco. Dai racconti del pentito Gianni Cretarola si viene a sapere chi un giorno la cosca mise le mani su di una 357, una pistola di grosso calibro. Questa 357, spiega il collaboratore di giustizia, è stata mandata giù in Calabria perché ad agosto si sarebbe dovuto fare un'azione. L'obiettivo, stando a quanto ha raccontato Cretarola e magistrati, era quello di mantenere una sorta di monopolio su Roma, specie dopo l'assassinio di Vincenzo Femia. Non si sa contro chi era stata programmata tale azione di fuoco, tuttavia una cosa, stando alle parole del pentito, sembrava essere certa. Il delitto non sarebbe avvenuto a San Luca ma sulla 106. E non si sarebbe fatto a San Luca, spiega Cretarola, perché San Luca è come Platì, c'è il vincolo di non ammazzare nessuno.